LA BANDA DI BERSUVI SI ACCORDA DOBBIAMO CONSEGNARGLI UN TAPIRO, SIR SERGIO SCECH CI APRE UN ATTIMO OH GRAZIE SONO UNA PAROLA SIR SERGIO SCECH AH MI FA ENTRARE, BENE SIR SERGIO SCECH Cosa succede, la vedo molto attapirato Sì accetto volentieri questo tapiro d'oro bello tra l'altro eh niente lo accetto volentieri niente sono attapirato perché ho finito le ferie si sono andate bene però al mio ritorno visto che lobby del tabacco non hanno perso tempo e hanno incominciato a dire le solite stronzate quindi un po' attapirato sono perché sai quando uno è nelle ferie nelle vacanze stacca un po' anche con la mente e niente sono ritornato alla dura realtà che effettivamente siamo in un paese in un mondo di merda tutto qui va bene comunque niente ti ringrazio Valerio Sticazzi Sì grazie mille per avermi dato il tapiero sono molto apiratissimo da Valerio Sticazzi striscia la bufala Milano a voi studio Sì grazie mille per avermi dato